Un centinaio tra medici e primari sono questi i primi furbeti del cartellino scoperti dagli ispettori mandati dalla regione nell'azienda ospedaliera di Padova. Irregolarità commesse tra 2016 e 2017, cui professionisti hanno replicato con giustificazioni di vario tipo, un guasto nel baggio, dimenticanze, banali errori. Nel mirino della regione l'attività extramene in libera professione di questi medici soggetta a regole precise, tanto che eventuali danni al sistema sanitario nazionale potrebbero essere segnalati alla Corte dei Conti. In attesa che i risultati vengano esaminati anche dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale, già trattenuti i professionisti l'intero importo di parcelle controverse per un totale di circa 100.000 euro.